ciao a tutti benvenuti alla seconda puntata della serie sui diavoli la prima puntata era basata sulla corte infernale e sui diavoli che pur facendo parte della nobiltà infernale vivono sulla terra e non all'inferno oggi vi parlerò dei diavoli erranti il primo diavolo di cui vi parlo è Beifagor un nome che conoscete tutti ci hanno fatto anche delle opere teatrali dei film e Beifagor è noto come l'arci diavolo un titolo che si è messo lui da solo se l'è auto attribuito la storia di Beifagor si svolge a Firenze dove dopo aver assunto le sembianze di un gentiluomo si stabilì diventando subito in breve tempo una persona importante della città la sua fama dura due mesi alla fine dei quali si sposò e si rovinò sposò la bellissima onesta che era bellissima poverissima ma una rompiscatole con delle pretese incredibili superba e avida in modo incredibile tanto da dar fastidio allo stesso Beifagor che era un diavolo e lui stesso era avido nel giro di poche settimane Beifagor si trovò sull'astrico in bancarotta pieno di debiti e allora scappò da Firenze e si ritirò in campagna trovo rifugio nella casa di un contadino molto povero anche lui che però gli offrì appunto ospitalità da mangiare e da bere come ricompensa allora Beifagor gli disse che sarebbe andato nel villaggio più vicino si sarebbe impossessato di una ragazza in modo che il contadino l'avrebbe esorcizzata intascando così la ricompensa la mattina dopo Beifagor andò al villaggio più vicino entrò nel corpo della ragazza più bella e cominciò a farle fare strani gesti a farla parlare in lingue strane sconosciute e subito fu chiaro che era posseduta da un diavolo i genitori subito impauriti misero come ricompensa un sacco d'oro per chiunque avrebbe compiuto l'esorcismo per liberarla allora il contadino si presentò e praticò l'esorcismo ma Beifagor stava troppo bene dentro la ragazza e si rifiutò di uscire questa cosa si ripetè per alcune settimane alla fine il contadino spazientito per la promessa non mantenuta allora chiese a tutta la città di fare un fracasso infernale di fare più rumore possibile per far uscire Beifagor dal corpo della ragazza Beifagor incuriosito chiese cosa stesse succedendo e il contadino in mezzo a tutto il rumore gli urlò che stava arrivando sua moglie onesta per riportarlo a casa Beifagor fu così terrorizzato dall'arrivo di onesta che lasciò immediatamente il corpo e scappò a rifugiarsi all'inferno da allora nessuno l'ha più visto il prossimo diavolo di cui vi parlerò è Arlecchino che tutti conoscete come maschera di carnevale in realtà è un diavolo di origini scandinave in antichità si pensava che durante alcune notti probabilmente solstizie qui nozzi non sono sicuro si svolgesse una cosiddetta caccia infernale alla cui guida c'era la dea della morte Hel con le sue valchirie Helkins da cui viene il nome addirittura c'era chi credeva che a capo della caccia selvaggia invece che la dea ci fosse Odino stesso a cavallo di Sleipnir un cavallo otto zampe in Germania Odino fu chiamato Herla König il re dell'aldilà in Inghilterra Herla King da lì la leggenda di Arlecchino si diffuse in Francia e anche in Italia in Francia c'è la storia che si svolse in Normandia nel 1091 il cui protagonista era il giovane prete Gualchelmo che mentre stava tornando alla sua abbazia in una notte buia e tempestosa vide in lontananza una corsa di cavalli gente a piedi e questi erano tutti diavoli che torturavano un'infinità di dannati che si lamentavano per i tremendi dolori e a capo di tutta questa fila di gente e di diavoli c'era Arlecchino più o meno contemporaneamente la storia di Arlecchino arrivò anche in Italia dove si pensava che la sua data preferita per comparire per fare la sua sfilata era il primo gennaio una leggenda in comune tra tutte le storie delle varie nazioni su Arlecchino era che il primo gennaio lui andasse a trovare la fata Morgana per divertirsi e in questa occasione coprisse il suo sudario perché lui era vestito con un sudario lo coprisse per allegrare la situazione con petali di fiori colorati e da lì è venuto fuori il suo vestito colorato con tanti colori diversi ma in realtà Arlecchino all'inizio indossava un sudario come Pulcinella per esempio che è un altro diavolo comunque in ogni posto dove passava il corteo di Arlecchino con tutti i diavoli la gente torturata e tutte queste storie la gente si chiudeva in casa e stava ben attenta a non uscire per strada per paura di essere portata via insieme al corteo però tutti sbirciavano dalle finestre con il tempo qualcuno è diventato sempre più curioso qualcuno è iniziato a uscire qualcuno è iniziato a unirsi al corteo e da lì sono iniziati festeggiamenti sempre più grandi fino al carnevale di adesso da allora nessuno ha più avuto paura di Arlecchino e anzi la sua figura è stata usata come protagonista per tante storie addirittura protagonista di commedie e si usa il suo vestito come travestimento di carnevale anche per i bambini Dante lo mise nel ventiduesimo canto dell'inferno in cui con arroganza accetta davanti agli occhi stupiti di Dante e Virgilio l'offerta del dannato Ciampolo di Navarra che pur di non essere squartato dai diavoli promette di far sbucare fuori dalla pece bollente altri sette suoi compari ma in un momento di distrazione generale Ciampolo riesce a rituffarsi nello stagno bollente e a scappare dai demoni per recuperare dalla figuraccia Arlecchino chiamato in questo caso Arlecchino che è l'italianizzazione di Arlecchino cerca in modo goffo di raggiungerlo per uncinarlo ma non ci riesce e allora il collega diavolo calcabrina infuriato raggiunge Arlecchino i due si azzuffano cadono nella pece bollente mentre Dante e Virgilio se ne vanno lasciando i due diavoli a continuare a fare a botte insomma Arlecchino da diavolo spaventoso e temibile è diventato un personaggio da commedia un altro diavolo errante questa volta invece da cui bisogna tenersi alla larga è Baldassarre il passatempo preferito di Baldassarre è andare nei villaggi di campagna dove c'è la gente più credulona e farsi passare per un nobiluomo o una persona ricca comunque si presenta una volta su una carrozza adesso probabilmente su automobili di lusso ben vestito pieno di soldi offre da mangiare da bere a tutti organizza cene organizza feste si fa conoscere e quando organizza la festa più grande di tutte dal pomeriggio la gente comincia a ubriacarsi anche per la tensione accumulata nei giorni precedenti dell'attesa della festa che sembrerebbe la festa più bella del mondo e quando la gente ubriaca poi cominciano a coppiarsi vecchie con giovani giovani con vecchie animali cose strane che non sto a descrivere ma quando il sole tramonta si alza un vento impietuoso che sferza tutti i presenti alla festa e il vino diventa acqua i soldi nelle tasche dei ricchi diventano foglie secche e così via la gente si rende conto di quello che stava facendo e a quel punto si sente in lontananza l'eco della risata di baldassarre che comincia a far piovere una pioggia di zolfo che distrugge tutta la città con tutti i presenti sono in quel momento la gente gli ultimi che ci sono capiscono cosa è successo ma ormai è troppo tardi e intanto baldassarre si trasforma e assume il suo vero aspetto mostruoso pensando già al prossimo villaggio da distruggere conclusa la storia di baldassarre passiamo al diavolo degli zingari cagrino cagrino si presenta come un riccio è anche simpatico dall'aspetto un bel riccio però questo riccio ha l'abitudine di tormentare i cavalli degli zingari di giorno cagrino sonnecchia ciondola di qua e di là senza dare eccessivo fastidio segue gli zingari nei loro spostamenti e spesso li aiuta compiendo anche furtarelli di cui deposita poi il bottino davanti alle tende di notte invece gli piace cavalcare e allora sale sul collo di un cavallo lo morde e lo fa correre per tutta notte sfiancandolo e riportandolo indietro alla stalla solo alla mattina ormai distrutto e pieno di acule di riccio per difendere i cavalli da questa fatica gli zingari gli cospargono gli zoccoli di aglio e in più fanno attorno al posto dove li legano tutta una serie di croci di lana per terra per evitare che cagrino riesca avvicinarsi ai cavalli però in questo caso cagrino si offende e smette di compiere i furtarelli che fanno tanto comodo agli zingari che quindi non sanno mai come comportarsi nei confronti di questo diavolo c'è chi fa dei doni per farsi perdonare c'è chi invece difende i cavalli e alla fine nei due schieramenti si azzuffano e resta tutto come prima e cagrino continua a cavalcare i cavalli durante la notte la prossima storia è quella di ivan un diavolo russo triste e solitario molto tempo fa ivan era un diavolo molto importante e rinomato satana gli affidò il compito di girare sulla terra e osservare e esplorare tutto quello che ci fosse da vedere un bel giorno incuriosito dalla parola amore ivan cercò di informarsi fu così che conobbe la bellissima tamara e se ne innamorò subito al volo però tamara era già fidanzata allora ivan passò un po di tempo ad aggirarsi per i boschi per le nevi al freddo da solo e alla fine escogitò un piano il giorno dopo tornò al villaggio e uccise il fidanzato di tamara che venne chiusa in convento così ivan aveva via libera una notte tamara in convento fu svegliata da una voce sua dente maschile che le diceva parole d'amore dal giardino questo continuò per un po di tempo fino a quando tamara si innamorò di quella voce al che ivan si rivelò si fece vedere a lei ma preso da un impeto d'amore la baciò però questo fu un errore perché il bacio di un diavolo è la cosa più mortale che ci sia infatti tamara morì subito allora ivan preso dallo sconforto incenerì tutto quello che gli stava attorno e cominciò a cavalcare da solo nella steppa russa e si dice che ancora stia cavalcando nelle steppe della siberia in mezzo alle nevi perenni un diavolo errante molto interessante e utile durante la storia per la nostra cultura per la cultura di tutto il mondo è titivillus in diavolo dei copisti satana lo spedì sulla terra nel medioevo in tutta fretta quando i frati amanuensi mentre copiavano i libri a mano tralasciavano tante parti che facevano scomodo oppure per distrazione facevano errori che rendevano magari incomprensibili testi o ne cambiavano totalmente il senso satana che è sempre stato un cultore della precisione della cultura di questo non era per niente contento e allora infatti mandò titivillus col compito di tenere svegli i copisti di correggere gli errori di guidargli la mano durante il sonno per copiare pagine che altrimenti non avrebbero mai copiato insomma la cultura è stata tramandata grazie a titivillus poi con l'invenzione della stampa titivillus ritenne finito terminato il suo compito e tornò all'inferno dove se ne stette per un bel po ultimamente è stato rimandato sulla terra da satana che si è reso conto che ci sono addirittura troppe pubblicazioni in contrasto una tra l'altra non si capisce niente gente che magari pensa alla terra piatta e cose del genere e quindi titivillus è stato rimandato sulla terra e in questi giorni è ancora tra noi cercando di correggere tutti gli errori che vengono fatti nei testi scritti sebbene ormai sia un compito difficilissimo per un diavolo solo i jin sono degli spiriti che vivono prevalentemente in arabia nel deserto e negli anfratti tra le rocce delle montagne nel deserto però vivono anche in giro per tutto il mondo sempre negli anfratti di montagne particolarmente isolate o in grotte particolarmente profonde di giorno si nascondono nel sottosuolo perché temono la luce del sole di notte dopo il tramonto escono allo scoperto a volte sotto forma di capre cani gatti o serpenti più raramente cammelli e a volte sotto aspetto umano il loro dispetto preferito è quello di sedersi accanto a un ingordo sperando che prima del pasto non dica la formula sacra bismillah se se ne dimentica infatti possono mangiargli prima che se ne accorga tutto il cibo che c'è nel vassoio a chi si guarda allo specchio dopo il tramonto a lume di candela fanno malare gli occhi in casi particolari riescono anche infuriarsi riuscendo a causare malattie come colera vaiolo peste o lebra i gin sono particolarmente attratti da sangue e infatti attorno alle botteghe dei macellai capita molto spesso che sia pieno di gin l'unica protezione contro i gin sono lame d'acciaio che i gin stessi temono tantissimo e non sa perché temano anche la polvere da sparo i badwin i bedwini del deserto ogni volta che fanno un accampamento sacrificano un animale qualsiasi purché di colore nero per ingraziarsi i gin presenti sul luogo i gin si manifestano con mulinelli di polvere vorticosi che possono trasformarsi in vere e proprie tempeste di sabbia oppure con globi luminosi che si aggirano in mezzo al deserto inoltre c'è una leggenda che dice che in realtà le stelle cadenti non siano meteoriti che entrano nell'atmosfera ma siano gin che cadono dal paradiso i gin infatti sono per natura amarini e curiosi e in agosto quando nelle città nel deserto fa un caldo insopportabile organizzano spedizioni in massa in cielo dove riliano le porte del paradiso cercando di capire le conversazioni segrete tra gli angeli siccome però sono goffie rumorosi in genere vengono scoperti e scacciati dagli angeli stessi a colpi di saette infuocate lanciate con archi angelici speciali a lunga gittata queste saette e non altro sono ciò che gli uomini chiamano stelle cadenti i diavoli erranti quasi sempre per spostarsi o usano animali oppure si trasformano loro stessi in animali ma non tutti gli animali gli vanno bene ci sono alcuni soprattutto che sono i preferiti dei diavoli vediamo quali sono il basilisco è molto simile a un iguana nasce da un uovo di gallo fecondato da una biscia e covato da un rospo a occhi fiammeggianti una doppia coda e sul capo una corona sanguigna la sua arma micidiale è lo sguardo che può incenerire qualunque ostacolo l'unico mezzo per sopprimere un basilisco è mostrargli uno specchio rimanendo colpito dal riflesso dei propri occhi morirà nella frazione di un secondo cane in particolare il levriero nero il barboncino nero e il lupo nero le altre razze sono relativamente innocue anche se con qualche eccezione caprone è uno degli animali che satana ama di più basti pensare che i piedi diabolici sono tutti caprini e molto spesso e caprina anche la barba talvolta il caprone funge da semplice mezzo di trasporto per diavoli e streghe altrimenti è una delle incarnazioni stesse del diavolo corvo nero come la pece a 64 modi di gracchiare e sono tutti di malaugurio mi piace svolazzare negli altri oscuri ed è amico e confidente di streghe e stregoni il gatto anch'esso nero con occhi luminosissimi coda rita e atteggiamento bellicoso ama il fuoco e qualunque luogo caldo viene spesso usato come messaggero dalle streghe il gufo i suoi grandi occhi gialli accesi nella notte sono dei potenti fanali per illuminare la via al sabba sa stare assolutamente immobile per ore ed è di una fedeltà assoluta per questa ragione gli si affidano spesso tremendi segreti il pipistrello è un animale essenzialmente infernale abitatore in genere di caverne antri e miniere abbandonate non è molto intelligente ma in compenso è instancabile come animale da trasporto e più veloce del caprone il rospo è temibilissimo soprattutto quello rosso e cornuto di cui è nota la malignità ed insaziabile curiosità è molto utile come informatore il serpente insieme agli altri letteri compresi dinosauri l'animale che satana predilige avendone assunto la lingua nella sua metamorfosi più classica quella di satana in trono essendo più forcuta infatti egli si permette di parlare contemporaneamente uno qualsiasi dei linguaggi terrestri e lo scuro linguaggio diabolico che nessun dannato o visitatore dell'inferno è mai riuscito a interpretare infine ci sono due animali che i diavoli invece proprio non sopportano questi sono l'asino e il gallo l'asino è un nemico perché spesso porta impressa sul dorso una croce di pelo nera oppure bianca a seconda del colore dell'asino e questa croce basta da sola ad allontanare e indebolire le forze demoniache il gallo è colui che con il suo canto mette in fuga le ombre della notte e con esse tutti i poteri infernali come per gli animali anche tra le piante ce ne sono che piacciono i diavoli e altre no è noto per esempio che le erbe allucinogene o psicotrope possono avere effetti ritenuti diabolici essendo usate magari per fare pozioni magiche e cose del genere in realtà però satana e tutti gli altri diavoli hanno uno scarso interesse per il mondo vegetale per esempio i fiori tranne quelli che sono andati sul vestito di arlecchino a colorarlo sono tenuti in scarsissima considerazione e lo stesso vale per i frutti piante d'appartamento rampicanti e le piante in generale quello che invece ha importanza per i diavoli sono alcuni alberi prima di tutto c'è un frassino che si trova presumibilmente nel centro europa o alcuni dicono nel nord america e che nessun essere umano ha mai potuto vedere ha tre radici di cui una va verso il cielo la seconda fonda per migliaia di metri nella terra e la terza corre parallela al suolo modificando ogni sei mesi la sua direzione prima verso il polo sud poi verso il polo nord il tronco ricoperto da una corteccia liscia come il vetro respinge gli assalti degli animali e nessun uccello tranne l'aquila reale osa posarsi sui rani almeno una volta all'anno satana esce dall'inferno e si siede sotto questo albero all'improvviso tre mesi fiumi scaturiscono dalle radici dell'albero che si seccano subito appena il re dell'inferno si allontana poi c'è il noce eletto dalle streghe albero del sabba in onore del noce di benevento sotto al quale si svolsero i più splendidi sabba che la storia ricordi prima di ogni raduno esse si danno quindi convegno sotto un noce e ne mangiano i frutti di cui sono ghiottissime satana da parte sua ha conferito questo albero il potere di trasmettere energia vigore e persino poteri magici per tale ragione il noce è noto anche come albero della forza i pini e le querce sono molto graditi e diavoli erranti che nascosti nelle loro fitte chiome si divertono a colpire i passanti con una gragnuola di pigne o di ghiande anche il tiglio viene utilizzato per le beffe il suo intenso profumo notturno è un eccellente strumento per stordire gli innamorati e gli ubriachi e per rubare loro le scarpe infine mentre sono in viaggio i diavoli erranti si fermano subito se vedono un urivo contorto e più vecchio contorto è miglio è accendendo un fuoco nei loro tronchi cavi infatti il bosco si illumina di una luce sinistra ed emette gemiti e durulati che terrorizzano i viandanti e rifanno scappare gambe elevate cosa che naturalmente costituisce un passatempo delizioso per qualsiasi diavolo senza occupazione fissa infine quando vogliono riposarsi i diavoli si sdraiano tra foglie di comunissima lattuga l'ultima leggenda che vi racconto oggi è quella della nave di dover la nave di dover è un immenso vascello lungo chilometri comandato dall'ammiraglio leviatano che per percorrerlo tutto dalla prua alla poppa ci mette almeno sette anni a cavallo questa nave è stata costruita con il legno degli alberi diabolici allo scopo di dominare i mari e gli oceani di tutto il mondo e come ho detto le dimensioni della nave sono gigantesche tanto che i marinai che devono andare a manovrare le vele salgono sugli alberi da ragazzini giovani e scendono giù da vecchi con la barba lunga e in pratica fanno un turno di lavoro in tutta la loro vita tant'è vero che lungo gli alberi è stata disposta a una serie di osterie per dare conforto ai marinai che salgono e scendono le dimensioni così spropositate della nave una volta ebbero conseguenze sul paesaggio terrestre la nave dove andare dal mare del nord verso l'atlantico per dirigersi verso il nord america e invece di fare il giro a nord delle isole britanniche l'ammiraglio leviatano ha voluto a tutti i costi passare tra la francia e l'inghilterra ma la nave era talmente larga che non ci passava allora ha ordinato all'equipaggio di spalmare tutto lo scafo di sapone di marsiglia per farla scivolare tra le coste delle due nazioni per fare il lavoro ci volero sette anni sette mesi e sette giorni ma quando fu compiuto la nave finalmente riuscì a passare ma tirò lisce le coste a sud dell'inghilterra e da lì sono nate le scogliere di dover che sono rimaste bianche a causa del sapone che è rimasto spalmato sopra da questo episodio la nave è stata chiamata comunemente nave di dover che è una nave invisibile nonostante le dimensioni e si dice che compaia molto spesso nella zona del triangolo delle bermude dove infatti sono successi tanti disastri sia navali che aerei perché si dice che la sola presenza della nave di dover faccia impazzire i timonieri e i comandanti delle navi scardini bulloni e faccia affondare le navi solo con la sua presenza anche la seconda puntata sui diavoli è finita nella prossima vi parlerò della personalità usi e costumi degli hobbies dei diavoli continuate a seguirmi sul mio canale youtube to speed music and travels iscrivetevi e attivate le notifiche iscrivetevi anche al mio gruppo su facebook urbex and mystery e ci vediamo al prossimo video oh yeah iscrivetevi anche al prossimo video oh yeah